Il segretario, venite, rileggiamo la lettera, e poi subito che l'avrò sottoscritta per qualche destro e accordo contadino, penserete a mandarla al suo destino. La patrona va a conquistar, di venire, di venire, di restar. Non ho tempo, che volete, segretario, concludete, la vicenda a me sta faccosa, che pazienza, che confusione, che confusione. Cospettaccio, cospettone, non vedete cosa far. 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 Cospettaccio. Cospettaccio.